Tra le tante interrogazioni di oggi il Consiglio regionale si è discusso una che io ho sollecitato proprio tramite il capogruppo della Lega Mai e cioè la richiesta di esenzione per la tratta autostradale rampe a 12 Ceparana anche per i comuni di Pezzano Ligure, Calici al Cornoviglio e Follo. Infatti allo stato attuale i residenti di Santo Stefano, Magra e Ceparana sono esentati dal pagamento di questo tratta autostradale. Noi chiediamo che insieme a questi comuni vengano aggiunti nell'esenzione anche gli altri tre comuni che prima ho citato della piana di Ceparana. La Giunta ha risposto che proprio già da tempo ha sollecitato proprio per avere l'esenzione di tutti i comuni della piana di Ceparana, ci auguriamo che venga esaudita presto questa richiesta perché è importante che tutti i comuni che usufruiscono delle rampe sulla 12, un'opera realizzata in tempi record dopo il crollo del Ponte di Abiano e che ha risolto tantissimo la viabilità della bassa Valdivara, ecco che venga esaudita questa esenzione del tratto autostradale.